Giovanni è un giocatore di calcio molto competitivo. È sempre stato il giocatore migliore e il capo canoniere nei tornei di calcio. Ultimamente il suo rendimento è diminuito, il suo amore è pessimo e non riesce a raggiungere gli standard della squadra. I suoi compagni gli consigliano di provare sostanze illegali per migliorare le prestazioni, ma lui non è sicuro che questo sia il modo giusto per raggiungere l'obiettivo. Grazie.